Oroscopo settimanale, dal 25 settembre al primo ottobre 2017. Ariete. Amore. L'anima gemella deve imparare ad essere meno impaziente e nervoso. L'amore, quello vero, arriverà e giungerà. Senza alcun preavviso. Affinita fantasiosa e giocosa con gemelli ed acquario. Lavoro, giove è pronto a sostenere le vostre scelte lavorative, a darvi grinta e coraggio per affrontare con audacia anche le sfide apparentemente più complesse. Giorno dopo giorno, imparate a mettere sulle fondamenta per realizzare in tempi record i vostri progetti, soprattutto quelli da portare a termine entro fine anno. Tenacia e forza d'animo non vi mancano e procedendo di questo passo, raggiungerete obiettivi importanti. Questo soprattutto per chi è in cerca di lavoro oppure ha intenzione di investire in una nuova attività più redditizia. La mente è attiva e lucida, anche se le preoccupazioni potrebbero giocare un ruolo sfavorevole e rendervi cupi e nervosi. Toro. Chi ha rotto un legame a causa di una coccente delusione è pronto a passare ad altro? I partner vaghi e spenti non fanno per voi. Lasciatevi sedurre da un capricorno. Si tratterà, come annuncia loroscopo, di un incontro molto stimolante. Lavoro. Lavoro, nuovi soci o collaboratori oppure sogna di portare a termine un progetto importante, deve affidarsi alle strategie migliori per evitare salti nel buio. Loro scopo invita ad essere cauti e parsimoniosi nelle questioni finanziarie e a non indugiare troppo nella pigrizia. Gemelli. Gemelli. Amore. 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 Non aspettate il momento che ritenete giusto per fare. Amore. 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 Lavoro. Lavoro. Preoccupatevi, ce la farete a reggere lo stress. Leone. Amore. Lavoro, organizzazione e determinazione rappresenteranno quella marcia in più per tagliare traguardi importanti in breve tempo. Lagitazione potrebbe rendere, però, il cammino più tortuoso. Valutate i nuovi investimenti affidandovi agli esperti e soprattutto, ascoltate con le informazioni. Colleghi e collaboratori. Non sempre sono intenzionati a scavalcarvi. Avete gli strumenti giusti per capire chi è con voi e che vi usa per i propri tornaconti personali. La diffidenza, spesso, rischia di incubire i rapporti con le persone di fiducia. È arrivato il momento giusto per consolidare, ma attenzione. Loro scopo consiglia di evitare pretese o assumere atteggiamenti arroganti con il capo. Virgine. Amore. 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 Stanno avvenendo cambiamenti molto importanti nella vostra personalità che potrebbero provocare crepe nelle relazioni di lunga data. Attenti a quel che dite e da come lo dite. Il partner potrebbe non essere sulla vostra stessa lunghezza donda e soprattutto, non capire a fondo i turbamenti del vostro essere. L'oroscopo consiglia di chiarirsi, senza se e senza ma. Se una storia provoca solo dolore, è il caso di chiudere. Le love story forti, invece, con il favore delle stelle, riusciranno a pianificare una convivenza oppure un matrimonio. L'oroscopo invita a non disperdere le energie in banalità. La vostra immagine professionale emana un forte senso di fiducia. Il capo a stima di più. E potrebbe presto affidarvi compiti o incarichi nuovi per mettere alla prova le vostre capacità. Fioccheranno proposte improvvise. Non lasciatevi cogliere impreparati. I guadagni degli ultimi mesi ora vi permettono di realizzare qualcosa di importante, di investire in acquisti utili per la vostra attività. In arrivo, telefonate, email, scambi di vedute, riunioni, insomma. Tante buone occasioni per volare sempre più in alto. Scorpione. Amore. Maestri della seduzione, vi lancerete in conquiste faticose ma sorprendentemente appaganti. Si apre una settimana molto movimentata dal punto di vista dell'eros. Qualche nativo è pronto ad incontrare l'amore con la A maiuscola. Altri, invece, usciti da una relazione ormai spenta e lacerata da dubbi e da incertezze, avranno voglia solo di vivere avventure eccitanti e di breve durata. Venere amica facilita la riconciliazione con persone appartenenti al vostro passato. Le coppie, in questa settimana veramente importante per i sentimenti, riusciranno a ritrovare l'intimità dei vecchi tempi. È da riscoprirsi. Più legati che mai. Un cancro è pronto ad affascinarvi con il suo charm. Non lasciatevelo scappare. Lavoro. Chi lavora in proprio terra piccoli ma significativi riconoscimenti e soprattutto, riuscirà ad ampliare i propri orizzonti e ad avviarsi verso strade nuove. I pianeti nel vostro cielo vi aiuteranno a concentrarvi al massimo per capire su quali piste continuare a correre e quali, invece, conviene abbandonare. Sagittario. Amore. Solo per il gusto di avere un fidanzato, ah! Attenti a non fare scelte azzardate e confusionarie. Piccole tensioni a livello emotivo metteranno a dura prova i singoli impenitenti. Cercate una persona che vi faccia divertire senza pretendere nulla in cambio? Un acquario, in questo periodo, è ciò che fa per voi. Lavoro. Il segreto del vostro successo? Capricorno. 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 Capricondizionare dai ragionamenti e che può essere molto utile. Lasciarsi travolgere dalle emozioni. I pianeti favoriscono una intesa calda ed un eros disteso e tenero con tutti i segni dacqua ed in particolare con un sensibile e romantico pesci. Capricorniziale. Lavoro, vi aspettano giornate ricche di sorprese, energiche, vigorose. Non rallentate i ritmi, procedete spediti verso la meta da raggiungere. Organizzate bene le idee, i progetti, programmate. E soprattutto, utilizzate i weekend per staccare un po la spina. La corsa verso il raggiungimento del successo potrebbe essere costellata di piccoli insuccessi o errori. Loro scopo annuncia grandi cambiamenti, quindi non mollate proprio adesso. Il peggio è alle spalle. Laudacia è ritornata e con essa, anche la possibilità di trasformare una passione in qualcosa di estremamente redditizio. Durante meeting, riunioni o corsi d'aggiornamento, potrebbero nascere amicizie interessanti oppure accordi stimolanti. Possibilità di valutare anche proposte provenienti da ex datori di lavoro. Acquario. Si lanceranno in flirt passeggeri ma intensi. Chi è appena uscito da una relazione abbastanza burrascosa, deve evitare di proiettare ansie e paure sulla persona che sta frequentando, rischierà di farla scappare via a gambe elevate. Un incontro lampo potrebbe suscitare emozioni nuove, sensazioni attese da tempo. Trasporto e affinità erotica e mentale scoppiettante con gemelli e bilancia. Lavoro. In arrivo occasioni da sfruttare e offerte tutte da valutare. Non perdetevi d'animo. Riprogrammate un progetto economico, cambiate se necessario soci ed obiettivi. Pesci. Amore. Amore, tanti sono i progetti da realizzare, forse troppe le cose da sistemare. Il partner vi starà vicino e insieme, riuscirete a concretizzare sogni ed obiettivi. La carica seduttiva raggiungerà il culmine soprattutto nel weekend, quando Eros vi aiuterà anche a superare diatribe e scaramucce. Fra le lenzuola. Nel vostro oceano di segreti. Lavoro. Nel vostro oceano di segreti. Nel vostro oceano di segreti. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Al prossimo episodio.